Sulla critica fatta, no? A parte le promesse, ma c'è proprio il tema anche del... avrebbe detto il trap, non dire il gatto se non l'hai nel sacco. Lo diceva tra partoni, no? No, vabbè, lì c'è, mi sembra che sia palese, la buona fede di Luigi Di Maio, che da Ministro dello Sviluppo Economico, con un accordo positivo raggiunto, ovviamente lo annuncia in maniera entusiasta. Si può imparare dall'esperienza che anche un accordo positivo raggiunto, alla fine non è mai raggiunto, perché chi lo sottoscrive poi si può tirare indietro. Questo è quello che abbiamo imparato e ovviamente si può fare solo tesoro dell'esperienza. Cautela, cautela. Allora, vedo che c'è ragione. Volevo rispondere anche sul tema del lavoro, al professore Puglisi. Io sono assolutamente d'accordo sia sul discorso dell'edilizia, che secondo me andrebbe cambiata come idea. Noi abbiamo la possibilità di intervenire su una quantità veramente infinita di immobili fatiscenti, cercando di lavorare sulle restiturazioni invece di fare... Le consiglie di consulenza a Caporale, su questo ha fatto un lavorone già. Nuovo consumo di suolo che va assolutamente evitato nel nostro paese, ma si può restrutturare i milioni di immobili che abbiamo, che sono in condizioni fatiscenti e serve tanto lavoro. E l'altra cosa è che comunque dobbiamo anche guardare al futuro con ottimismo, con un atteggiamento positivo. I dati che oggi leggevo durante la pubblicità sul giornale di Antonello Caporale è che comunque la disoccupazione è in discesa, siamo al 9,5% ed è il miglior dato degli ultimi minori. Allora, si fermi un attimo con Rao, perché devo dare il benvenuto una signora. E' arrivato...